Da troppo tempo gli ospedali di Vallo della Lucania, Polla, Sarno, Sapri, Scafati, Battipaglia, Salerno, Eboli e Roccadaspide fanno i conti con una grave e ormai atavica carenza di personale sanitario. Una criticità che si riverbera sulla funzionalità di molti reparti a partire dai pronto soccorso, senza dimenticare che il personale in servizio è costretto ogni giorno a svolgere numerosissime ore di straordinario per assicurare la copertura dei turni di servizio, il tutto a danno della qualità dell'assistenza e della garanzia del diritto alla salute, lo dichiara il presidente della Commissione Speciale Aria Interne e consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano. Questa mattina, annuncia Cammarano, ho depositato una richiesta urgente al presidente della Commissione Regionale Sanità per sapere se la Giunta intende intervenire con misure e iniziative tese a colmare la carenza di personale, una criticità che rischia di tramutarsi in una vera e propria emergenza con l'arrivo dell'estate e il sacrosanto diritto alle ferie del personale sanitario.